Musica Benvenuti al TG10, oggi l'apertura la dedichiamo dal telegiornale alla pagina della cronaca nera, ci occupiamo dell'attentato incendiario compiuto la scorsa notte a gela e danni di una panineria sul lungomare Federico II di Svevia, bruciati sedie e ombrelloni, che ha agito e è stato ripreso dalle telecamere della sistema di videosodoviglianza, si sarebbe ustionato mentre appiccava le fiamme. Avvertimento col fuoco, la scorsa notte ai danni della panineria do Brasil sul lungomare Federico II di Svevia, gela, le fiamme sono state piccate intorno alle tre, lo rogo non ha attaccato la struttura. Ci hanno chiamato i conguilini vicini di casa che hanno visto delle fiamme, siamo intervenuti a venire a spegnere il fuoco. Ma già il locale era chiuso, no? Sì. Da quanto tempo? Da una mezz'oretta. E dunque così è che ha preso fuoco? Ha preso fuoco sedie, tavoli, se pare che c'erano messi. Sul posto sono intervenuti i pompieri del locale di staccamento. Le indagini sono state avviate dai carabinieri del reparto territoriale. Già questa mattina operai al lavoro per sistemare tutto e per ripartire da subito. Ma voi continuerete sempre a lavorare tranquillamente? Non vi fermerete? No, no. Le immagini del sistema di videosorveglianza privato sono state acquisite dagli inquirenti. Poi voi avete visto anche le riprese del sistema di videosorveglianza in cui si vede che qualcuno appicca le fiamme? Sì, sì. Ma era col viso scoperto, coperto? No, un cappucciato con un ciubbotto che aveva il cappuccio e via. E addirittura lui si è anche ferito? Sì, si vede che prendeva fuoco pure lui e è scappato. Non è il primo gesto intimidatorio che viene compiuto ai danni della panineria. Già nel 2012 era stata colpita da un altro attentato. Ma che chiave di lettura date a quello che è accaduto? Perché purtroppo non è la prima volta che si verificano degli incendi dolosi che colpiscono le attività commerciali. È gelo che succedano tutte queste cose che non so questa cosa perché la fanno succedere. Ma c'è stato qualche avvisaglio? No, 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 assolutamente. Una persona arrestata e due denunciate a piede libero e il bilancio dell'attività anticrimine della Polizia di Gela nelle ultime ore. Carmelo Daniele Lizio, 28 anni, deve scontare 3 anni, 2 mesi e 24 giorni di carcere per reati contro il patrimonio, resistenza pubblico ufficiale e spaccio di droga. Un cinquantenne è stato segnalato per detenzione di sostanza stupefacente, munizionamento per arma comune da sparo ed un pensionato di 70 anni per detenzione abusiva di armi antiche orare. Eni imprese appaltatrici della raffineria di Gela hanno firmato il patto per la sicurezza estendendo il campo di applicazione dai cantieri di costruzione, come si faceva in passato, anche alle attività di routine facendolo diventare un modello di gestione. Il patto è stato segnalato ieri alla presenza della responsabile Eni, Giuseppe Ricci, e di tutti i contrattisti impegnati nelle attività sul territorio. Il patto, che negli ultimi due anni è stato progressivamente applicato ai cantieri di costruzione, viene ora esteso anche alle attività di routine, diventando un vero e proprio modello di gestione della sicurezza in Eni. Sulla sicurezza, dice il colosso industriale, Eni da sempre non fa distinzione tra i propri dipendenti e i lavoratori dell'indotto e tutti gli indicatori di sicurezza vedono coinvolta la forza lavoro. L'impegno e il coinvolgimento profusi da tutta l'organizzazione ha prodotto i suoi frutti e gli indicatori di sicurezza Eni sono migliorati di cinque volte in cinque anni, ponendo Eni al primo posto tra le maggiori oil e gas e di ordini di grandezza meglio della media italiana e europea. Oggi la probabilità di infortunarsi in Eni è pari a 0,2 per ogni milione di ore lavorate e moltissimi siti industriali vantano molti anni senza infortuni, mentre la media dell'industria italiana e europea è di oltre 10 infortuni ogni singolo milione di ore lavorate. Risultati eccellenti che Eni vuole consolidare e migliorare fino al raggiungimento di zero infortuni in tutto il gruppo. Un obiettivo molto ambizioso per il quale è indispensabile mantenere sempre tensione e attenzione ai massimi livelli. Per questo è stato implementato un sistema di regole e controlli molto rigoroso che parte dalla qualifica dei contrattisti fino al feedback sul loro operato. Eni vuole il proprio pieno coinvolgimento ed è questo lo scopo del Patto per la Sicurezza, una partnership che parte dai titolari delle imprese che vengono coinvolti nella definizione della strategia e nella sua attuazione. Eni mette a disposizione gli strumenti dal sicurometro al portale della sicurezza per le ditte terze dalle iniziative di comunicazione agli interventi di formazione giuntiva contro l'incampo ad effettuare congiuntamente e si pretende una piena integrazione e collaborazione sulla sicurezza tra Eni e le ditte contrattiste. Il funzionamento del Patto è affidato alla Safety Competence Center di Gela che con i suoi circa 140 leader nella sicurezza assicura che tutta l'organizzazione interna e dei terzi funzioni secondo la strategia condivisa, una combinazione di rigore e coinvolgimento che è la ricetta ideale per continuare a migliorare in un campo, quello della sicurezza. Un'innovazione che ne distingue da ogni realtà industriale al mondo e che potrebbe in futuro diventare un modello virtuoso da esportare all'esterno. E della vicenda Agorai, in particolare al mondo della grave crisi occupazionale che si registra a Gela, se ne è parlato ieri sera ad Agorai condotta in studio da Franco Gallo. Vediamo. Piccoli spiragli, ma veramente piccoli, si cominciano ad intravedere sulla spinosa e gravissima crisi che ha investito la città di Gela dopo la chiusura della raffineria dell'Eni. Piccoli spiragli che non possono però indurre all'ottimismo, ma che una riflessione seria e concreta la inducono a fare. Intanto, le rassicurazioni dei vertici dell'Eni sugli investimenti nel sito di Piana del Signore e la conferma che il colosso del Canasseizampe non ha intenzione di mollare questo territorio. Si dirà che sono parole non fatti, in realtà però non è proprio così. Perché la scusante adotta da Eni sul motivo che ha impedito finora all'azienda energetica più importante del paese Italia di realizzare i suoi progetti a Gela è disarmante e allo stesso tempo inappellabile. Ossia il colpevole ritardo del governo nazionale di quello regionale nel rilascio delle autorizzazioni. E qui si apre il dibattito sulle gravissime responsabilità politiche di chi a Roma come a Palermo continua a non rendersi conto della pesantissima situazione sociale ed economica che questa città sta vivendo da quell'oramai lontano 6 novembre 2014 quando cioè fu firmato il protocollo di intesa che sanciva la fine della raffinazione del petrolio allo stabilimento di Gela e si decideva al contempo la riconversione di un'area industriale che per oltre 50 anni è stata l'unica fonte di reddito di una intera collettività di 75 mila abitanti. Roma dà le colpe a Palermo e Palermo le rimanda al mittente un batti e ribatti tra Renzi e Crocetta che ha messo alle corde una intera città Gela in mezzo ad una diatriba tutta di marca PD che ha superato ogni limite di sopportazione ma dicevamo dei piccoli segnali di positività a volte anche impercettibili tanta e tale è la crisi che vive Gela lo sblocco ad esempio e finalmente della cassa integrazione per gli ex lavoratori della SMIM un colossale ritardo che la settimana scorsa aveva portato l'operaio Matteo Guerreri ad una protesta clamorosa poi per fortuna rientrata dopo che si era barricato per 36 ore su un pontone del cantiere della SMIM. Piccoli segnali ma serve l'intervento forte della politica di una politica che su Gela sia una volta per tutte coesa unita alla ricerca della soluzione dei tanti problemi che attanagliano questo lembo di Sicilia ed il PD, inutile nasconderlo, ha le maggiori responsabilità in tutto questo sia perché governa a Roma e a Palermo sia perché ha governato a Gela per 22 anni e fino allo scorso anno fino cioè alla firma del fantomatico protocollo d'intesa che ha condannato a morte l'industria gelese Di tutto questo si è parlato ieri sera da Gorà il rotocalco settimanale della nostra emittente ha ospitato il segretario cittadino del PD, Peppe Di Cristina che ha confermato la linea che il maggior partito di Gela farà opposizione costruttiva all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Messinese ma che sulla vertenza Gela non possono esserci divisioni di sorta Assieme al numero uno del PD gelese in studio il vice sindaco ed assessore con delega all'industria del comune di Gela Simone Siciliano quindi il segretario confederale della UIL Maurizio Castania e l'ingegner Fabrizio Lisciandra che è stato consulente per conto della presidenza della regione siciliana nella stesura del protocollo d'intesa firmato al Mise lo scorso 6 novembre del 2014 chi volesse rivedere questa ennesima interessante puntata di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su canale 10 e dalle prossime ore sui nostri indirizzi social Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata per parlare come sempre di temi che riguardano Gela e di Gelesi Cambiamo argomento, Roma stoppa ancora una volta la legge sulle province che dopo l'adeguamento alla della Rio necessita di un nuovo lifting lo Stato centrale infatti chiede alla regione l'applicazione della regola secondo la quale non possono candidarsi alla presidenza del libero consorzio quei sindaci i cui mandati scadono prima dei 18 mesi dalle elezioni Ci risiamo, dice Liliana Bellardita del comitato Gelensis Populus Continua il braccio di ferro tra Renzi e Crocetta La legge sulle province dovrà tornare in aula a Lars per essere nuovamente modificata e questo ennesimo stop rischia di far slittare le elezioni degli enti intermedi obbligando la regione all'ennesima proroga dei commissionamenti della ex province La difformità contestata da Roma era già in realtà contenuta nella riforma regionale ma poi negli infiniti tentativi di riscrittura sembra sia stata cancellata Ed ecco continua Bellardita che ancora una volta ci si vede costretti ad assistere a questa commedia dell'assurdo tra Roma e Palermo La classe politica a qualunque livello non ha avuto problemi a trovare la quadra per schiacciare le richieste democratiche dei cittadini di Gela, Niscemi, Piazza Merina e ciò per garantire uno status che forse la scelta coraggiosa e democratica di questa comunità stava minacciando Adesso come dal resto siamo già abituati i parlamentari regionali inizieranno a litigare nel tentativo maldestro accusandosi gli uni con gli altri di allungare quanto più possibile i tempi per giungere se possibile a non decidere più Non scordiamoci, conclude l'avvocato Bellardita, che la campagna elettorale incombe Noi come Comitato non ci stancheremo di ritornare a parlare con la politica regionale Ci rendiamo conto che la cosa sarà più complicata per via del clima di tensione creato a seguito di alcune azioni istintive promosse dai sindaci e da associazioni per definizione loro ufficiali il cui unico e solo effetto, temiamo, sarà quello di ottenere la chiusura della politica regionale verso il nostro territorio nonché il defilarsi di forze che dopo che hanno ottenuto il proprio ti abbandonano Questo è quanto si legge nel comunicato diffuso da Gelensis Populus E adesso occupiamoci della volontà di esprimere il proprio consenso sulla donazione di organi e tessuti Una scelta in comune al fine di promuovere l'opportunità più pratica e veloce di esprimere la propria volontà ricevendo da personale preparato tutte le informazioni del caso è volontà della Giunta Comunale di Gela assumere e sostenere iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto come atto di grande civiltà in grado di salvare vite umane Il Comune di Gela, abilitato dal Centro Regionale Trapianti sarà infatti inserito nell'elenco dei comuni virtuosi siciliani e potrà raccogliere consensi all'atto dell'emissione o del rinnovo della carta d'identità Noi ci siamo attivati con le strutture dell'amministrazione con la sala dirigente Guzzardi la quale ha già fatto tutti gli atti propedeutici per poter dare questo servizio che consentirà finalmente di sollevare i propri cari di una scelta a volte molto complicata, dolorosa e che a volte va pure in contrasto con la volontà invece che uno ha delle persone di conseguenza una importante azione di civiltà Con una scelta in comune dunque i maggiorenni che si presenteranno all'ufficio Nagrafe per rinnovare o chiedere la carta d'identità potranno specificare sul proprio documento se consentono o meno alla donazione di organi Saranno infatti invitati dall'operatore dell'ufficio Nagrafe a manifestare il proprio consenso o di miego alla donazione sottoscrivendo un apposito modulo Il territorio si è sempre mostrato molto aperto alla crescita culturale per quanto riguarda la donazione di organi Questa ulteriore crescita fondamentale per l'evoluzione voluto assolutamente dai coordinatori regionali e locali sicuramente ci aiuterà tantissimo noi e la popolazione alla crescita culturale Il 21 giugno prossimo alle 19, nei locali del Club Vela sullo lungomare Federico II di Svevia sarà ufficialmente firmata la convenzione tra il comune di Gela l'Asp di Caltanissetta e il centro regionale Trapianti Sicilia Saranno presenti i numerosi volontari e le associazioni Adas, Admo, Aido, Adoces Sicilia Gela deve diventare la città del dono Non a caso martedì sera al Club Vela ci sarà questo incontro dibattito durante il quale verrà firmata questa, sarà questo momento importante per la storia della nostra città la firma c'è di questa convenzione che abilita il comune a raccogliere le adesioni di volontà la manifestazione di volontà a diventare donatore di organi sulla carta di identità Ci sarà il coordinatore regionale del centro regionale Trapianti la dottoressa Piazza ci sarà ovviamente il sindaco ci saranno tanti volontari e soprattutto ci saranno le testimonianze di chi ha effettivamente fatto la donazione ci sarà un donatore che ha donato il midollo osseo a dicembre per una ragazzina con la leucemia ci saranno anche dei riceventi quindi chiederanno la loro testimonianza di vita perché sono viventi e quindi questi sono secondo me i messaggi forti che la città deve ricevere e i messaggi che la gente si aspetta La Commissione Bilancio e Programmazione a seguito dei pareri del Collegio dei Revisori dei Conti e della deliberazione della Corte dei Conti inviata al Consiglio Comunale lo scorso 16 giugno ha deciso di chiedere all'amministrazione comunale di Gela il ritiro della proposta di deliberazione relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Tecra che ha come oggetto il pagamento delle aspettanze per il servizio di raccolta dei rifiuti questa decisione scaturisce dal fatto che la sezione controllo della Corte dei Conti ha rilevato che in tema di debiti fuori bilancio non supportati da sentenze esecutive il Consiglio Comunale deve esercitare un ampio apprezzamento discrezionale che nella fattispecie del debito Tecra concerne l'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento derivanti dalle forniture effettuate in violazione delle ordinarie procedure di spesa e in edicola e lo vediamo il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro titolo di apertura della prima pagina sulla conferenza stampa nella quale i comitati referendari e i sindaci hanno ribadito in settimana di essere pronti a tutto pur di far valere la sovranità popolare circa l'adesione di Gela Niscemi e Piazza Armerina alla città metropolitana di Catania in prima pagina anche il richiamo di un ampio e dettagliato servizio sull'operazione samarcanda della polizia che ha portato in settimana all'arresto di quattro persone coinvolte in una organizzazione dedita allo spaccio di droga una città senza rispetto scrive di questo Giulio Cordaro nella sua rubrica politicamente scorretto il giornale ospita la nota diffusa in settimana dall'ex sindaco Angelo Fasulo molto polemico e critico verso le recenti digrazioni della sindaco misionese e del suo vice siciliano all'interno articoli e i servizi di attualità e cultura e la pagina delle aste giudiziarie c'è infine lo sport con i servizi sul Gela e sugli europei di calcio di Orazio Accomando e un articolo sulle recenti imprese della associazione Tennis Tavolo ai campionati nazionali che si sono svolti in Puglia in ultima pagina i piccoli annunci economici gratuiti ed in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo che questa sera alle 21 andrà in onda il assaggio di danza della scuola di Claudia Tranito che si è svolto al teatro comunale Eschilo ospiti dell'iniziativa sono Nuria Salado Fustè e Carlos Mantolvan Tovar per i ballerini e balletto del sud di Freddy Franzutti e Pierpaolo Trani ballerino dell'Accademia Nazionale di Danza a Roma ci fermiamo lì nella regia per la pubblicità ed eccoci seconda parte del telegiornale comunità aperte e solidari per un futuro condiviso e il tema di una tavola rotonda che si darà a Gela nel cortile di Palazzo Pignatelli martedì 21 giugno alle 17 in occasione della giornata mondiale del rifugiato all'incontro moderato dalla psicologa Stefania Pagano interverranno tra gli altri il vescovo della diocese di Piazza Nerina Monsignor Rosario Gisana Massimo Mille Soli dell'associazione My Lower che discuterà sulla convenzione di Ginevra e Giovanni Anna Loro su quali diritti quale protezione ed ancora che danno bugiata dell'ufficio immigrazione della questura di Caltanissetta il convegno seguirà la passeggiata in bicicletta dal tema due passi per dire grazie il raduno è previsto alle 15 nei pressi di Largo San Biaggio a Capo Soprano gestione dei centri di accoglienza per i migrati è stato il tema del seminario di studi che si è tenuto nell'auditorium dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela grazie a Vincenzo Cascio direttore scientifico e alla fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio l'obiettivo è stato quello di fornire agli operatori sociosanitari gli strumenti pratici e le strategie applicative che consentono di gestire comunità quali i centri di accoglienza per i migrati nelle diverse aree di convergenza psicosociale e l'area sanitaria è importante innanzitutto avere sottoquadro le diverse aree di intervento per quanto riguarda i centri di accoglienza immigrati in particolare l'area psicosociale l'area sanitaria e l'area legale e in queste aree richiedono degli interventi integrati che solo un'equip con multiprofessionale può riuscire a gestire quali sono le strategie i compiti veri e propri innanzitutto la compilazione di schede e di cartelle che consentono un monitoraggio degli interventi una supervisione una coordinazione degli interventi in un'ottica integrata il seminario patrocinato dall'ordine professionale degli assistenti sociali della regione Sicilia ha consentito ai partecipanti l'acquisizione di crediti formativi professionali questo seminario appunto ha lo scopo di fornire agli operatori del settore uno strumento per acquisire delle competenze ancora più specifiche al fine di offrire un servizio sempre migliore e cercare appunto di venire incontro a quelle che sono le esigenze che maturano nel nostro contesto in particolare appunto nell'ambito socio-sanitario assistenziale che comunque rientrano tra quelli che sono i punti chiavi che la fondazione vuole portare avanti al fine di fornire un supporto al territorio laddove il nostro modello di welfare ultimamente in effetti si vede che è messo un po' in crisi e quindi spesso queste nuove dinamiche portano gli operatori del terzo settore come la fondazione Antonietta Salvatore Aldisio a cercare di essere propositivi nel riuscire a fornire degli nuovi appunto come dicevo prima dei nuovi strumenti per creare diciamo un valore aggiunto sia per chi diciamo come noi cittadini italiani si trova a frontaggiare la problematica dell'immigrazione sia gli stessi immigrati clandestini che sicuramente poi si trovaranno di fronte degli operatori più consapevoli ancora più formati di quello che siano attualmente si terrà domani alle 11 presso la sala congressi della pubblica assistenza pro civis di Gela in via ossidiana 23 l'insedimento ufficiale del nuovo direttore sanitario si tratta del medico chirurgo Roberto Alabiso primario dell'unità funzionale di chirurgia della clinica Santa Barbara Hospital di Gela che guiderà i soccorritori della pubblica assistenza pro civis protezione civile come da programma la cerimonia prevede il saluto di benvenuto alle autorità civili e militari da parte della responsabile Luca Cattuti relazione delle attività promosse dalla pro civis in questi anni lettura della formula di insedimento e accettazione dell'incarico come direttore sanitario di una pubblica assistenza anche al comune di Gela è possibile presentare la domanda per l'erogazione del bonus per la nascita di un figlio lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela il contributo ammonta a 1000 euro e potrà essere concesso in favore dei bambini nati o adottati dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2016 i modelli dell'istanza sono disponibili negli uffici del segretariato sociale in Viale Mediterraneo o possono essere scaricati dal sito internet del comune le richieste corredate da alcuni documenti vanno presentate al protocollo generale dell'ente entro il prossimo 15 settembre per i nati nel primo semestre dell'anno entro il prossimo 15 ottobre per i nati dal primo luglio al 30 settembre 2016 ed entro il 15 gennaio 2017 per chi nascerà nel corso dell'ultimo trimestre del 2016 l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del nucleo familiare non deve superare i 3000 euro un brand per rilanciare l'immagine positiva di Gela il marchio di identità visiva è stato creato da un giovane universitario si tratta di Simone Ceramella impegnato in graphic design presso l'Accademia di Belle Arti di Catania laureando 23 anni ha realizzato il marchio nell'ambito del corso di studio di metodologia progettuale della comunicazione visiva e lo ha donato gratuitamente al comune Gela da mare e poi il concept con tre onde di colori diversi il blu del cielo l'azzurro del mare e l'oro della sabbia il progetto è nato con lo studio di una materia in accademia in sede accademica la materia metodologia progettuale della comunicazione visiva questa materia parla della rivalutazione del territorio come prendere gli elementi basi di una città fonderli per creare un marchio è stato concepito secondo la mia concezione la mia visione di Gela e Gela non dimentichiamo che Gela non dobbiamo dimenticare che Gela è una città greca infatti questo marchio non va in contrasto alla città greca che è dobbiamo dire che Gela si trova in una zona molto importante della Sicilia soprattutto nella costa del Mediterraneo ho voluto donare questo progetto soprattutto per due semplici motivi il primo oltre a parlare in veste di studente parlo in veste di cittadino e vorrei fare capire grazie a questo questa donazione che non solo l'amministrazione si deve impegnare per questa città ma soprattutto anche noi cittadini dobbiamo contribuire nel piccolo in questo caso io a livello progettuale grafico ho contribuito donando questo marchio il sindaco Domenico Messinese è un messaggio sintetizzato per far vedere una delle nostre ricchezze ovvero sia la spiaggia ovvero sia il mare ovvero sia il cielo ovvero sia la bellezza naturale che non tutti hanno e che a Gela invece siamo fortunati che abbiamo chilometri e chilometri di spiaggia che però non vengono utilizzati forse in modo importante in modo economico per poter consentire di accogliere i turisti questo logo questo simbolo devo dire che in modo immediato manda un messaggio molto positivo del nostro territorio in vista della prossima stagione sportiva il Gela Calcio sta organizzando uno stage riservato ai giovani calciatori nati nel 1996 97 e 98 lo stage si svolgerà giovedì 23 giugno alle 17 verso lo stadio Vincenzo Presti gli interessanti dovranno preventivamente contattare il direttore sportivo Giovanni Martello al seguente numero telefonico 339 48 39 012 lo ripetiamo 339 48 39 012 dovranno inoltre essere muniti obbligatoriamente di certificato medico di donità fisica e del nulla osta della società di appartenenza è prevista per domani alle 20 al Club Bella di Gela la presentazione della romanzo di Nicoletta Bona Il mio Dio è nero l'autrice converserà con Francesco Pira la lettura dei brani è affidata all'attrice Daniela Moulet si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la solidarietà dei soci dello Juventus Club Doc di Gela che in collaborazione con l'Adas organizzano una giornata dedicata alla donazione di sangue denominata chi dona sangue ti fa la vita l'iniziativa deriva dalla volontà del consiglio direttivo dello Juventus Club Doc di Gela di coinvolgere tutti i soci e i tifosi juventini per dare un segno di solidarietà al servizio del prossimo i donatori di sangue che si recheranno al centro di raccolta fisso di via degli appennini 5 riceveranno un gadget offerto dal club l'appuntamento previsto per domani a partire dalle 8.30 abbiamo concluso anche per oggi vi auguriamo una buona fine settimana appuntamento alle prossime edizioni a partire